Nell'esercizio andiamo ad aggiungere una componente rotativa all'esercizio del plank con le braccia sollevate rispetto al pavimento. Quindi, quello che dobbiamo fare è appoggiare gli avambracci sulla superficie rialzata, unire i piedi indietro e distendere le gambe in modo da restare sollevati da terra, solo appoggiati agli avambracci e alla punta dei piedi. Da questa posizione allargo un pochettino le gambe rispetto al plank normale. Ora, una volta che mi sono sistemato in questa posizione, quello che devo fare è sollevare un braccio e distenderlo in avanti, senza però che si verificano rotazioni in questo modo a livello del bacino. Quindi un braccio alla volta, stacco prima al destro, torno, stacco il sinistro e ritorno. Ovviamente il movimento va fatto lentamente, senza movimenti di scatto, quindi non porto avanti il braccio e ritorno subito. In questo modo, ma piano, vado avanti, distendo bene, mi fermo almeno un secondo, uno e ritorno. Distendo, un secondo e ritorno. Stando, un secondo e ritorno